Fuochi d'artificio per il primo atto dei festeggiamenti 2010 per il patrono di Bari, San Nicola. La statua del Vescovo di Mira ha lasciato la teca all'interno della basilica ed ha compiuto i primi passi tra i fedeli, accorsi numerosi all'apertura delle celebrazioni. L'esposizione della statua, che si è affacciata alla porta della chiesa prima di essere depositata a fianco dell'altare maggiore, dà infatti il via ai festeggiamenti che culmineranno nella rievocazione della traslazione, a cui quest'anno parteciperà un ospite speciale. Ci sarà il Cardinale Bertone che è il segretario di Stato della Santa Sede e questo arricchirà anche la festa di una presenza che è significativa. Questo ha un significato anche di carattere ecumenico, a parte che tutta l'intonazione sembra ecumenica. Lui viene anche per inaugurare una cappellina in cui verranno conservate delle icone russe, delle grandi icone russe di San Nicola del XVI, XVII, XVIII secolo. E per domani, grande attesa tra i pescatori baresi per l'estrazione del peschereccio che sarà incaricato di portare la statua di San Nicola nel tratto di mare davanti alla città, durante la cerimonia della traslazione.